ecco si scambiano il campo adesso partiranno i bimbi con la casacca rossa ecco qua ci sono i bimbi con la casacca gialla ecco qua invece invece in fondo ci sono i ragazzi più grandicelli che sarebbero i giovanissimi allenati da mister bravo bravo ecco i difensori ecco Emanuele ecco Emanuele ecco Emanuele va bene va bene dai il rosso dai eccolo Emanuele forza bimbi in mezzo bravo bravo vai i difensori si allargano e gli attaccati pure a chi la dà la palla dai Emanuele 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 è uscita dai e e